Continuando le nostre interviste ho qui con me oggi Don Carmine Spada, giudice del Tribunale di Aversa, di appello nostro, che ci darà il suo risponso a caldo sull'anno giudiziario appena iniziato. Ringraziamo un po' di questa bella giornata che stiamo vivendo qui a Salerno. Mediante la quale si dà inizio ufficialmente all'anno giudiziario, un anno senz'altro dove la celerità, la prossimità sono un po' soprattutto a servizio della comunità e soprattutto anche delle coppie che vogliono ricongiungersi con la Chiesa, mediante sia il processo ordinario come abbiamo avuto modo di ascoltare, sia il processo breve, dal tempo stesso anche per quei casi di processo in appello dove io umilmente cerco di prestare servizio con grande competenza e qualità giudiziale. E nei confronti ovviamente di questi casi in appello. L'auspicio è che possiamo vivere un anno mediante le quali tante coppie possano ricongiungersi con la Chiesa e che è in dubbio l'invito che possiamo rivolgere è quello di intraprendere un po' questo percorso mediante il quale possano almeno verificare la possibilità di intraprendere una eventuale presentazione mediante il livello della causa di nullità matrimoniale. Grazie Don Carmine.